Avola, 19esimo anniversario della strage di Nasseria, resi gli onori al brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta. In occasione del 19esimo anniversario della strage di Nasseria, della 14esima giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, sabato 12 novembre presso il cimitero di Avola, nel corso di una sobria cerimonia, è stato deposto un omaggio floreale in memoria del brigadiere Giuseppe Coletta, carabinieri di origine avolese che cadde in quella tragica circostanza. Per l'occasione erano presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Siracusa, il sindaco della città di Avola, la sorella del caduto, una rappresentanza della locale sezione dell'Associazione Nazionale Carabinieri, e il cappellano militare di Messina che ha osservato un momento di raccoglimento e pregato per tutti i caduti nelle missioni internazionali per la pace. Un altro breve e intimo momento di raccoglimento ha avuto luogo presso la stazione carabinieri di Avola, lui intitolata. Il brigadiere Coletta è ricordato come persona sempre prodiga verso il prossimo, in particolare in favore dei più piccoli, sia con il proprio servizio quotidiano, sia quale promotore di iniziative a carattere privato, finalizzate a fornire un aiuto concreto ai più bisognosi. Il 12 novembre del 2003 a Nasseria, città dell'Iraq, un camion bomba esplose dentro il recinto della base maestrale dei Carabinieri Aquera, ha demandato il controllo di quella zona del paese. La dinamica dell'attentato kamikaze è tristemente nota, intorno alle 10.40 un camion cisterna ha attraversato il ponte sull'Eofrate, girò a sinistra puntando verso il vecchio edificio ex sede della Camera di Commercio, dove era insediata la base del reggimento italiano MSU. A bordo del camion c'erano due persone, un autista e un uomo armato che si sporse verso l'esterno e cominciò a sparare contro il posto di guardia all'ingresso della base. Il camion sfondò la barra di metallo all'ingresso, mentre il Carabinieri di Guardia rispondeva corregiosamente al fuoco. Il camion terminò la sua corsa pochi metri dopo, scontrandosi con le strutture di protezione che delimitavano il parcheggio della base, esplodendo a circa 25 metri dalla palazzina. Alla fine della giornata il bilancio fu tragico, erano caduti 12 carabinieri, 5 soldati dell'esercito italiano, 2 civili italiani e 9 civili irachene, una ventina di italiani e 3 militari e civili rimasero invece feriti. Grazie.